Oggi vi parlerò di un caso che mi sta molto a cuore, di un caso molto strano e ve ne parlerò prima citando alcune informazioni. Se avete dei pensieri per un gesto estremo rivolgetevi immediatamente alle forze dell'ordine, al centro di salute mentale della vostra zona, chiedete aiuto immediatamente. Questo video non ha l'intenzione assolutamente di darvi alcun tipo di idea in questo ambito e soprattutto ha intenzione di spiegarvi un altro risvolto di quelli che sono i gesti estremi che sono in realtà inscenati, sono quindi degli omicidi inscenati come suicidio. Vi parlerò di un caso molto recente per cui sembra che siano state riaperte le indagini e ve ne parlerò citandovi altri due casi che secondo me non sono ovviamente dei suicidi, perché chi va in Spagna ci va per vacanza, ci va per divertimento, può andare a viverci, sposarsi e cercare di avere una vita insieme ad un'altra persona, ma non credo che una persona abbia bisogno di recarsi a mille, mille e cinquecento chilometri da casa per andare a commettere un gesto estremo che può tranquillamente commettere dentro casa sua. I casi ovviamente a cui mi riferisco precedenti a questo ritrovamento, questa identificazione sono il caso di Martina Rossi, avvenuta il 3 agosto del 2011, per cui credo che nessuno di noi sia convinto si tratti di un suicidio, perché nel momento in cui io cerco di scappare probabilmente da una violenza non vado a gettarmi dal balcone. L'altro caso è quello di Mario Biondo, per cui c'è ancora in corso tantissima polemica da parte di studiosi del caso, della famiglia che chiede giustizia, di perizie che sembrano contraddittorie, di disposizioni, di dispositivi dell'autorità giudiziaria che non si capisce dove vogliono andare a parare. Ovviamente Mario Biondo, morto il 30 di maggio del 2013, sono fermamente convinta che non si sia suicidato e sono fermamente convinta che non si sia trattato di un gioco autoerotico finito male, perché se io voglio fare un gioco autoerotico non lo faccio in quelle determinate condizioni, situazioni, lo faccio in tutt'altro modo e probabilmente lo farei in un altro locale dell'appartamento, come ad esempio il bagno o la camera da letto. Non lo farei di certo in studio in quel modo lì. Tralasciando questi due tristissimi casi, per cui spero che un giorno ci sia almeno la giustizia divina, per chi crede ovviamente che esista. Vi parlerò di un altro caso molto recente, per cui sono state riaperte le indagini, perché finalmente la ragazza è stata identificata a distanza dei 32 anni, ed è il caso di Evie Anna Rauter. Molti di voi l'hanno sentito nominare, ne hanno letto qualcosa in questi ultimi tre mesi passati. Chi è Evie Anna Rauter? Evie Anna Rauter nasce e cresce a Lana nel Tirol del Sud. Lana come la Lana, è una città, una piccolissima città in mezzo alla natura. Lei cresce felicissima e contentissima. Ha una sorella di quattro anni più grande, Cristina, con cui condivide tutto, sono migliori amiche. È una ragazza molto aperta, che non ha problemi a raccontare quello che le sta succedendo e capitando, anche come adolescente, al proprio padre. Quindi con lui non ha assolutamente alcun tipo di segreto, si confidano su assolutamente tutto. È una ragazza nel 1990 di soli 19 anni, ma è una ragazza molto indipendente, parla quattro lingue, sa gestire contatti, sa gestire anche conoscenze con l'estero, non ha assolutamente alcun tipo di problema. Dicevo, nell'estate del 1990, soli 19 anni, si diploma, arriva a diplomarsi e decide di fare un viaggio in Irlanda. Fa un viaggio in Irlanda con due suoi amici, sembra che proceda tutto bene, è molto felice, torna a casa, continua ad essere molto felice, cerca di decidere, di capire che cosa vuole fare del suo futuro, quando a un certo punto, a settembre, decide di recarsi a casa della sorella Cristina. La sorella Cristina studiava in quel momento all'università di Firenze e ovviamente in quei giorni, inizio settembre, aveva qualche giorno libero. Decide quindi di ospitare la sorella Evi e la fa venire a casa sua. Passano qualche giorno insieme, girano per Firenze, gliela fa conoscere, le mostra ai monumenti. Sono due sorelle molto felici, ridono, scherzano, non ha assolutamente alcun fidanzato, sembra che non abbia nemmeno intenzione di averne, perché è molto concentrata nel trovare se stessa. Queste sono le dichiarazioni che riferirà anche la sorella nell'immediatezza della scomparsa. Quindi, come vi dicevo, Evi è una persona perfettamente normale, perfettamente sana, perfettamente integra, non dà alcun segno di squilibrio, non dà segni di depressione, di malumore, di preoccupazioni di alcun tipo. Il 3 di settembre del 1990 la sorella Cristina si alza la mattina presto, fa colazione insieme a Evi, ridono, scherzano, parlano del più e del meno, dopodiché verso le 9 la sorella Cristina esce di casa perché deve andare in università quella mattina e Evi rimane a casa da sola. Non si sa che cosa sia successo, sappiamo solo che Evi lascia un bigliettino a casa alla sorella con un disegnino molto buffo dicendole guarda io vado a fare un giro per Siena, ci vediamo stasera. Quindi premette già che lei la sera sarebbe dovuto tornare a casa nell'appartamento di Firenze della sorella. La sorella all'una circa ritorna a casa, non vede assolutamente nessuna traccia della sorella, trova il biglietto e pensa che sì è una cosa normale, non ci vede assolutamente nulla di male. Le ore passano, arriva la sera, Evi non torna. La sorella pensa magari ha perso solo il treno, l'ultimo treno che arriva da Siena, probabilmente adesso avviserà, dirà qualcosa. Alle 22 circa la sua preoccupazione diventa ansia. La mattina dopo presa completamente dal panico, dalla preoccupazione, chiama i genitori per sapere se magari la sorella presa da un nervosismo, da qualcosa, sia potuta tornare a casa nel Tirol del Sud, nella città di Lana. Il padre dice che assolutamente no, non è tornata e da quel giorno, da quel tragico 4 settembre del 1990, per tantissimi giorni a seguito il padre, Herman Rauter, continuerà ad andare nella stazione per cercare di aspettare la figlia, per vederla magari scendere dal treno, tipo sorpresa, cucù sono tornata, cosa che purtroppo per Herman non succederà, non succederà per tutti i 32 anni a seguire. La sorella insieme un'amica inizia a cercarla per Firenze, non trovano assolutamente alcuna traccia della sorella e si recano quindi alle forze dell'ordine, per cercare di capire se possono sporgere denunce di scomparsa. Le forze dell'ordine decidono di riferire alla sorella di aspettare 48 ore per denunciarne la scomparsa, perché pensano ovviamente a un allontanamento volontario. La sorella aspetta quindi le fatidiche 48 ore e solamente il 6 di settembre del 1990 andrà poi a fare la denuncia di scomparsa. Evi Rauter è scomparsa nel nulla, inghiottita nel nulla, dall'appartamento della sorella avrebbe dovuto prendere un autobus da una fermata lì vicino per arrivare fino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, per poi prendere un treno per arrivare fino a Siena. La sorella di Cristina, Evi Rauter, non viene vista né mentre va verso la fermata, non viene vista in stazione, non viene vista arrivare a Siena, non viene vista assolutamente da nessuna parte. La famiglia ha proprie spese, non ha spese dello Stato, appenderà e distribuirà volantini in tutta Firenze, in tutta Siena, distribuirà volantini praticamente in tutta Italia per andare a cercare la propria bambina scomparsa. Herman non avrà notizie, Cristina non avrà notizie, la ragazza sembra scomparsa proprio in mezzo al nulla, senza dare assolutamente alcun tipo di traccia. Possono succedere gli allontanamenti volontari, ne abbiamo avuto l'esempio un altro anche nella puntata di Chi l'ha visto, la più recente, con quell'uomo che ha deciso di allontanarsi da casa in seguita a una discussione, di vivere nei campi dietro a casa per circa tre settimane in cui non è dato sapere se ha mangiato, se ha bevuto, se si è cambiato, non è dato sapere assolutamente nulla. Gli allontanamenti volontari possono succedere, spesso però si va nei posti in cui ci si è trovati molto bene, ci si è affezionati a un determinato luogo, in questo caso lei però non è andata in alcun tipo di luogo in cui poteva e doveva essere ritrovata in caso di allontanamento volontario. Passano 32 anni e arriva la notizia shock. Heavy Router viene identificata. Chi è? È la donna sconosciuta di Port Bu, nella provincia di Girona, in Spagna, nella regione della Catalogna, che viene identificata come la ragazza trovata deceduta la mattina del 4 settembre 1990, scomparsa tra le 9 e le 13 e viene ritrovata il 4 settembre 1990 nelle prime ore del mattino. Una scomparsa di 20 ore che si risolve con una morte anomala che la Guardia Nazionale Civile, quindi la Guardia Civile Nazionale Spagnola, decreta immediatamente come suicidio, ancora prima in realtà di vedere il corpo della povera giovane. Chiedo scusa in anticipo alla famiglia, chiedo scusa in anticipo a Cristina, a Herman, alla mamma, chiedo scusa in anticipo a tutti. Non sono solita mostrare dettagli brutti, foto brutte, ma in questo caso secondo me c'è bisogno di mostrarvi almeno qualche foto indicativa di quella che era la scena del ritrovamento, il luogo del ritrovamento, per capire in realtà la storia di questa sconosciuta, per capire perché non è stata identificata, per capire come può essere arrivata lì, per capire che cosa è successo effettivamente lì. Praticamente noi abbiamo la mattina del 4 settembre del 1990 che una persona passa di là, vede su una sorta di collina molto rialzata alla propria destra, mentre sta passando in direzione del cimitero a Port Boux, vede una giovane vestita con una salopetta azzurra, con una maglietta azzurra turchese all'incirca, con una folta a chioma di capelli, la vede lì appesa a un maledetto pino, un pino che da quel momento diventerà praticamente attrazione turistica horror per la gente, perché c'è purtroppo anche questo. Viene ritrovata la ragazza, lui avvisa la polizia, la polizia contatterà la Guardia Nazionale Civil, perché in Spagna c'è una differenza nella gestione dei compiti di polizia giudiziario o meno, quindi devono contattare la Guardia Nazionale Civile, che deve arrivare da Figueres. Figueres è una città a 30 km di distanza e per raggiungere da Figueres Port Boux ci sono circa 30 km da percorrere su una strada di montagna, veramente brutta da percorrere, e già il membro della Guardia Nazionale Civil, quando arriva lì sulla zona, è già abbastanza arrabbiato, perché ci ha messo 45-50 minuti circa per fare semplicemente una strada di 30 km. Lui arriverà però senza il medico legale, perché il medico legale, i periti forensi in Spagna, a quanto pare, per andare in trasferimento in caso di ritrovamento di un cadavere a distanza, perché viene tutto gestito a livello di distretti, nel momento in cui si trova un cadavere che non è nella città capoluogo del distretto della provincia, deve recarsi autonomamente a proprie spese, pagando lui le spese, quindi senza assolutamente alcun tipo di rimborso, e lui decide di non recarsi sulla scena del crimine. Non vedrà assolutamente per 32 anni le foto del ritrovamento della povera Evie. Lui si baserà semplicemente su quello che vedrà sul corpo della povera giovane ragazza sconosciuta. E quello che vedrà è che è una ragazza probabilmente del nord, la pelle che ha al di sotto del costume è bianca, bianca come un foglio di carta, tutto il resto del corpo sembra che sia stato esposto al sole nel giorno precedente perché è sul rossiccio, quindi ipotizza che sia una ragazza di origini nordiche, sicuramente Francia del nord o addirittura anche più su, se non proprio Germania o Austria. Ha un abbigliamento addosso che è di una collezione impulse di origini della Grecia, che viene però solitamente venduta in boutique del nord Europa, tra cui Svizzera, Germania, Austria o anche più a nord, Svezia, Norvegia e via dicendo. Cercano di fotocopiare, di salvare, di fotografare quelle che sono le etichette dei vestiti. Individua poi un altro punto strano che è la presenza dei peli. Come dice anche il medico legale negli anni 90, chi abitava nell'area del Mediterraneo aveva già preso l'abitudine la moda di andare a rasarsi o comunque di depilarsi specialmente nelle zone più esposte, cosa che però in questo caso non trova, quindi anche questo lo fa propendere per una donna del nord Europa dove non c'era ancora questa moda di depilarsi. Vede che è una ragazza molto giovane, tra i 19 e i 22 anni, anche se poi nel referto autottico scriverà tra i 25 e i 35, alta 1,74 m, capelli castani chiari, con la pelle, con molti nei. Non scriverà nient'altro. Questa sua relazione viene fatta sull'autopsia che verrà fatta il 6 di settembre, quindi il 4 settembre abbiamo il ritrovamento, lui il 6 di settembre fa l'autopsia. L'autopsia e le fotografie del 4 di settembre verranno inviate al giudice il 10 di settembre che decreterà effettivamente un decesso per suicidio di una no name, quindi una persona senza identità sconosciuta, una lima come dicono in Spagna. La donna non viene riconosciuta, non viene identificata, ci sono decine e decine di articoli di giornale che proseguono per mesi per cercare di identificare questa sconosciuta, vengono diffusi in tutta la Spagna, vengono diffuse le informazioni in tutta la Spagna. Il medico, vedendo che non viene identificata per paura che potesse subire delle modifiche a causa dei processi nonostante la presenza in cella frigorifera, decide di chiedere l'imbalsamazione della giovane ragazza sconosciuta. Chiede e ottiene da parte del giudice che venga imbalsamata. Dopo altro tempo vede che non c'è assolutamente alcuna notizia e chiede che venga sotterrata, venga sotterrata in uno dei loculi comuni, dei loculi solidali, perché in Spagna si paga ovviamente per essere sotterrati e quindi per le persone che non sono identificate provvede la comunità, la comunità con donazioni o col pagamento delle tasse. Queste tasse servono anche per pagare i loculi alle persone non identificate. La donna non identificata viene sepolta, viene sepolta con NN, una persona sconosciuta, un'anima, un'anoname e nel corso degli anni si cercherà di identificare la donna senza avere grande successo. Il problema è partito da monte. Per quale motivo la sconosciuta è stata decretata come morta per impiccagione, per suicidio, quando in realtà probabilmente non è assolutamente nulla di questo tipo. La guardia civil nazionale, come vi dicevo, arriva dopo circa 45-50 minuti di viaggio, identifica l'albero che viene segnalato come il luogo del gesto estremo, sale fino sopra, percorre la scalinata, arriva fino al punto più comodo per raggiungere il luogo. Sono molto arrabbiati perché per terra è pieno di cactus, quindi molto scomodo camminarci perché anche se riesci a calpestare il cactus qualcosa vicino sicuramente ti entra all'interno dei pantaloni. Arrivano lì e fanno qualche rilievo. Da terra fino ad arrivare al ramo in cui c'è Evie, in cui c'è la donna sconosciuta, ci sono 2 metri e 65. La guardia nazionale civil giustamente dice sì sì questo è un suicidio. Perché? Perché se tu alzi le braccia ti mancano circa tra i 40 e i 60 centimetri e ci puoi arrivare perché c'è un altro ramo lì più in basso che ti può permettere di arrivare fino a quello più in alto perché giustamente tu hai la possibilità di lanciarti in mare, hai la possibilità di andare sotto un treno, hai tantissime possibilità per farla finita, ma tu decidi di andare in quel pino sul cucuzzolo della collina a farla finita con una corda che non si sa da dove hai preso, lunga all'incirca 40 centimetri, che fai passare attorno all'albero, da dietro la testa senza assolutamente avere alcun tipo di capello, quindi tu hai fatto un'operazione del genere praticamente fluttuando in aria, quindi riesci a farti passare la corda attorno alla testa, attorno al ramo, mentre fluttui in aria perché non si sa come, tu sei appoggiata con i piedi scalzi, dopo aver camminato in mezzo di cactus arrivi di fianco all'albero, ci sali sopra su un ramo più o meno tagliato che si trova più in basso, ti arrampichi fino a più sopra, passi la corda, te la passi attorno al collo e ti cimpicchi con la corda chiudendola sul davanti, qui. Quindi capite anche voi che ovviamente questo non può essere assolutamente alcun tipo di suicidio. Come vi dicevo, questo in teoria è la ricostruzione di quello che dovrebbe essere realmente accaduto. Mentre si trovano sul cucuzzolo della montagna, i vari operatori della Guardia Civile Nazionale sporgono giù di sotto, guardano dritto per dritto e vedono a una distanza di circa 50 metri, notano una sorta di accampamento con alcune tende, si dirigono in direzione di queste tende e trovano alcuni giovani che in teoria dormono. Questo è quello che verrà riferito nei verbali dell'epoca. I sei giovani vengono svegliati, vengono interrogati se hanno visto o sentito qualcuno, se hanno visto qualcuno di estraneo, se hanno sentito urlare, se hanno sentito qualsiasi cosa. Tutti e sei giovani daranno la stessa versione. Non abbiamo visto nessuno, non sappiamo di niente, non abbiamo sentito niente, siamo qua solo di passaggio, siamo arrivati alle 3 del mattino del 4 settembre 1990, ci siamo accampati qui in fretta e furia, abbiamo fatto il falò da campo per cercare di riscaldarci un pochino, dopodiché ci siamo addormentati, quindi noi non abbiamo visto niente, non sappiamo nulla, non sappiamo assolutamente nulla. Questi sei giovani sono Mattia, Peter, Michael, Stefan, Manfred e Barbara. Sono 5 maschi e una ragazza, tutti di età variabile all'incirca tra i 18 e i 24-25 anni, mi sembra, tutti molto giovani, tra cui Peter che all'epoca ha 20 anni, Mattias, Mattia che ha 18 anni e tutti gli altri più o meno alla stessa età. Peter e Mattias, anche loro come gli altri 4, daranno i loro documenti, i loro passaporti, in cui si leggerà che sono cittadini austriaci, che sono lì probabilmente per una vacanza. Non viene chiesto da dove arrivano, non viene chiesto dove stanno andando, non si sa assolutamente nulla. Si sa solo che questi, dopo il ritrovamento della giovane sconosciuta, prendono, partono e se ne vanno, tranquillamente e liberamente, perché ha detto della Guardia Nazionale Civil, loro hanno detto che non hanno visto nulla, che non hanno sentito nulla, che non conoscono nessuno, quindi è giusto poterli lasciare andare. La Guardia Nazionale Civil non interrogerà i vicini che si trovano lì, in quegli appartamenti, in quel palazzo che c'è esattamente di fianco, a pochissimi metri di distanza d'Alpino. Non chiederà niente a nessuno degli abitanti. Solo dopo qualche tempo cercheranno di recarsi in stazione per vedere se qualcuno ha visto questa giovane. Nei giorni poco successivi si recheranno nei vari campeggi che ci sono in giro per la città, perché è una città, nonostante sia molto piccola, di circa un chilometro quadrato più o meno di abitazioni, una popolazione molto contenuta, è una zona di fortissimo passaggio. In questa zona di fortissimo passaggio ci si ritrova spesso con campeggiatori che sono lì per vacanza, per passaggio e vanno a interrogare tutti quanti nei campeggi. Nessuno ha la vista, nessuno la riconosce. Nella stazione dei treni nessuno ha la vista, nessuno la riconosce. Un passaggio in auto nessuno sa nulla. Dato che c'è anche un porto, addirittura si va a controllare nelle barche che si sono fermate, che sono passate, se c'è qualcuno che l'ha riconosciuta, che la conosce, che sa qualcosa di lei, anche sul fronte barche nessuno, niente, assolutamente nulla di nulla. Va ammesso che un piccolo sforzo lo faranno stavolta, a differenza di altri casi che sono avvenuti in passato. Questa volta però la Guardia National Civil almeno si prodiga per cercare di capire che tipo di corda sia quella trovata al collo di Evie, della donna sconosciuta, perché la corda sembra una corda molto strana, non sembra una corda da imbarcazioni, però vanno comunque nel porto a cercare barca per barca e capire che tipo di corda fosse e se provenisse da qualche barca. Anche lì un buco nell'acqua. Non viene trovato assolutamente nulla, non si sa come sia arrivata qui questa giovane, sembra quasi teletrasportata, che sia arrivata lì per porre fine alla sua vita senza che nessuno sapesse nulla di lei. Sembra una sconosciuta di cui nessuno sa assolutamente nulla. Per 32 anni le ricerche andranno avanti, in particolare un poliziotto scriverà un libro su questo caso, che diventerà abbastanza famoso, che cercherà di alimentare l'attenzione dei media, della popolazione nei confronti di questo caso. Ci saranno in particolare quattro giornalisti, due uomini e due donne, che si sono affezionati poi nel corso del tempo al caso e cercheranno in continuazione, almeno una volta ogni anno, di fare almeno un articolo per ricordare questa giovane sconosciuta, ma non si troverà assolutamente nessun riscontro. Il medico legale conclude che sì, era una giovane donna, probabilmente del nord Europa, ma soprattutto conclude che sicuramente la giovane era una persona istruita, perché nelle mani, a livello della base del dito medio della mano sinistra e alla base del dito medio della mano destra, ha dei calli e soprattutto il callo nel dito medio della mano destra, quindi quello che serve per scrivere, viene ritrovato molto forte, molto prominente, quindi si pensa che sia una ragazza giovane molto istruita. Il medico legale si era anche affezionato a questo caso, perché sperava di riuscire a dare un'identità a questa giovane, perché lui era convinto che qualcuno la stesse cercando. Cerca anche di farla imbalsamare, chiede al giudice e ottiene l'imbalsamazione della salma, dopodiché chiede e ottiene la sepoltura. Vengono diffusi i dati di questa sconosciuta, vengono diffusi tramite l'Interpol, l'Interpol però non darà alcun tipo di riscontro. Dal 12 di settembre del 1990 fino all'inizio praticamente di quest'anno, a circa aprile di quest'anno del 2022, stiamo parlando quindi di 31 anni e mezzo senza identificazione, l'Interpol non farà assolutamente alcun tipo di collegamento. Ci saranno nel corso degli anni dei sospetti, ci sarà una donna spagnola che dirà guardate che mia madre era un ex tossicodipendente, anche lei era scomparsa nel 1990 senza lasciare alcuna traccia, proprio dal mese di settembre anche lei, verranno confrontate le impronte digitali con la sconosciuta, anche in questo caso non si arriverà a nulla. Si faranno avanti altri casi, si farà avanti una famiglia francese, la famiglia francese in realtà si farà avanti subito dopo ritrovamento e dirà anche noi abbiamo una figlia che è scomparsa, la nostra effettivamente somiglia per altezza, somiglia per età, somiglia per colore dei capelli, la stiamo cercando, dà delle indicazioni per quanto riguarda un incisivo, l'incisivo superiore destro, anche in questo caso però un buco nell'acqua, nessuna identificazione, non era quella la ragazza. La famiglia quindi viene invitata a cercare in altri casi, in altri decessi non riconosciuti. Un altro caso verrà citato, il caso di una giovane ragazza, anche lei tedesca, sparita, scomparsa nel nulla, verranno fatti confronti con le impronte digitali ma purtroppo nemmeno lei è la persona sconosciuta ritrovata a Port Bù. Arriviamo quindi nei primi anni 2000, il medico legale, forte del fatto che ci sono le possibilità tramite il DNA di identificare, di fare delle analisi per vedere le origini vere e effettive di questa sconosciuta, perché come vi dicevo, il medico legale si era appassionato a questo caso, chiede e ottiene che ci sia una riesumazione della salma per cercare di estrarre il DNA. Con sua enorme sorpresa scoprirà che purtroppo il corpo della sconosciuta era stato rimosso dall'oculo dove era stata sepolta come nima, come una sconosciuta, era stata rimossa e sepolta in una fossa comune. Lui, forte del fatto che l'aveva fatta imbalsamare, che quindi doveva essere ancora integro il corpo della povera sconosciuta, si reca nella fossa comune per andare a cercare di seppellire, di cercare questa giovane sconosciuta. Cercherà e cercherà e cercherà, ma a quanto pare di aver capito con veramente poco successo. Rimane quindi in realtà sepolta in mezzo a tanti altri in questa fossa comune, da quello che mi sembra di aver capito dalle ricerche online. Un giornalista in particolare si affeziona al caso e decide di cercare di dare una speranza di identificare questa donna. Si metterà in contatto con la polizia tedesca. La polizia tedesca ovviamente non ha fascicoli secretati sulle persone scomparse e poco dopo gli darà una risposta purtroppo negativa. Contatterà anche la polizia austriaca. La risposta in realtà sarà che loro non possono fare nulla ufficialmente senza una richiesta ufficiale della Guardia Nazionale Civile Spagnola, ma la Guardia Nazionale Civile Spagnola non ha interesse di fare una richiesta perché per loro il caso è archiviato. Perché se anche si trattasse di omicidio, siamo ormai nel 2021, se anche si trattasse effettivamente di omicidio per loro è da archiviare. Perché in Spagna purtroppo l'omicidio, nonostante sia un reato orribile, può essere archiviato. Quindi per loro, se anche si trattasse di un omicidio, non c'è bisogno di indagare oltre. Sì, magari per identificare la povera donna, ma niente di più. Il giornalista però non si dà per vinto. Contatta una tv austriaca, una tv austriaca, Austria TV, ATV, che ha un particolare programma di cronaca, Unger Lost. Questo programma tratta di cold case, di corpi non identificati, per cercare di tenere alta l'attenzione del pubblico e mediatica su alcuni casi. Si mettono in contatto insieme, fanno le indagini, si inviano rispettivamente varie documentazioni. Questa persona, Ben Morak, farà le sue indagini, si rivolgerà anche alla polizia austriaca per chiedere se ci sono persone in Austria scomparse. Farà vedere le foto a un medico legale, un medico legale che dirà assolutamente non può essersi trattato di suicidio, perché io a piedi scalzi non posso camminare in mezzo dei cactus, arrivare lì, arrampicarmi senza avere tracce sulle braccia, sull'interno degli avambracci per cercare di arrampicarmi. Non posso non avere tracce sotto i piedi. Verrà fatta una puntata in cui viene spiegato per filo e per segno a che cosa è successo a questa sconosciuta. A questa puntata però assisterà una donna, una donna italiana che in quel momento, il 23 di aprile del 2022, si trova in vacanza in Austria e in quel momento è davanti alla tv che sta guardando la scena della ricostruzione di quello che può essere capitato a questa sconosciuta e vede immediatamente, tra le prime immagini che vengono mandate in questo programma, vede immediatamente, mentre è in piedi, la foto di questa giovane appesa al pino con questa fortissima chioma. Nel vedere immediatamente poi le immagini di questa giovane sconosciuta si ricorda di quel caso, di quella giovanissima ragazza di Lana, infatti lei dice ma questa è la ragazza di Lana e immediatamente rimane sconvolta. Lei, come tanti altri telespettatori, manderà la propria mail al programma ad ATV per Ungerlost, scriverà che lei si ricorda del caso di questa giovane italiana del Sud Tirolo scomparsa il 3 settembre del 1990 da Firenze con origini però di lana, scriverà tutti i dettagli, l'altezza, il peso, tutto quello che viene ritrovato online grazie agli articoli di giornale che sono stati diffusi anche successivamente anche in Italia. Queste ricerche portano il programma Ungerlost a leggere la mail il 25 aprile del 2022, giorno della liberazione praticamente, il 25 aprile del 2022 leggono questa mail, controllano anche loro le fonti online, controllano anche loro tutto quello che si può trovare online ed effettivamente rimangono completamente sotto shock perché la ragazza ritrovata a Portbu è purtroppo Heavy Router. A differenza degli altri casi in cui c'era effettivamente della somiglianza, in questo caso sono praticamente due ragazze completamente identiche. I due giornalisti, quello spagnolo e quello austriaco, cercano quindi di contattare prima di tutto la sorella di Heavy Router, Cristina. La contattano mentre lei è sul posto di lavoro, in un posto di alta montagna, c'è il telefono che non prende bene, è in una giornata difficile, arrabbiata e stressata e riceve una telefonata, la telefonata che le cambierà la vita, la telefonata che metterà fine a 31 anni e mezzo di ansia, una telefonata in cui le diranno salve, pensiamo che forse abbiamo trovato sua sorella e vorremmo chiederle se è possibile sentirci tramite whatsapp per capire se effettivamente questa sconosciuta che abbiamo trovato possa essere veramente sua sorella. Si inviano reciprocamente le foto, anche purtroppo quelle del cadavere non identificato, la sorella rifletterà due giorni su queste foto che riceve, dopo due giorni conclude che sì, i due giornalisti hanno ragione, la ragazza sconosciuta è effettivamente sua sorella, Heavy Anna Router, scomparsa il 3 settembre 1990 da Firenze, in teoria diretta a Siena, in pratica finita a Port Bù, in Spagna. Avvisa in questo modo i genitori, avvisa anche il padre Herman, il padre Herman che ancora sperava di vederla scendere dal treno e iniziano a indagare su questo caso, si mettono d'accordo e riesce finalmente anche a recarsi in Spagna dove parlerà con l'investigatore della Guardia Nazionale Civil per cercare di capire perché ha pensato al suicidio e lui giustamente spiega come sia possibile a piedi nudi camminare in mezzo ai dei cactus senza avere assolutamente alcun tipo di traccia di lesione sotto i piedi, con piedi perfettamente puliti. Spiega come sia possibile riuscire ad arrampicarsi per andare ad appendere una corda a 2 metri e 65 di altezza. Spiega che secondo lui è, era, è, rimane e rimarrà per sempre l'ipotesi del gesto estremo. Questa ipotesi invece verrà completamente ribaltata dal medico legale perché il medico legale spiegherà un fatto abbastanza anomalo. Spiegherà come lui il 4 di settembre non si è recato sulla scena del ritrovamento perché non non aveva la possibilità, i soldi, voglia di affrontare il costo di un viaggio di 30 chilometri in mezzo alle montagne per andare a vedere il corpo di una presunta suicida. Per questo se insisto spesso a dirvi che non devono assolutamente partire prevenuti, né coloro che chiamano per avvisare di un corpo né coloro che arrivano sulla scena del crimine. Devono sempre prendere il caso come se si trattasse di un omicidio, sempre, per cercare di avere le indagini fatte bene. In questo caso si viene a sapere che il medico il 4 di settembre non è andato sulla scena del ritrovamento. Il 6 di settembre è stata trasportata la salma nel cimitero di Figueres, che era praticamente il laboratorio da medico forense per le autopsie. In quella sala del cimitero di Figueres lui farà l'autopsia, un'autopsia che attesta un decesso avvenuto con una corda per in teoria impiccagione di una donna che si è impiccata all'albero nella sezione davanti frontale con una rottura totale, completa del midollo spinale posteriore. Un suicidio, quindi lui il 6 di settembre farà la sua autopsia, il 10 di settembre tutto finisce in mano a giudice, autopsia e foto che lui non ha visto, il medico legale non ha assolutamente visto l'informativa della Guardia Nazionale Civile per il semplice motivo perché nel momento in cui tu vuoi vedere l'informativa devi avere già i risultati dell'autopsia, quindi lui non ha visto assolutamente nulla. Il 10 di settembre finisce tutto in mano a giudice, il giudice decreta che si è trattato probabilmente di un suicidio. Il 12 i dati vengono inviati all'Interpol, dopodiché assolutamente il nulla. Bene, dall'altra parte abbiamo Heavy Router, scomparre il 3, il 4 viene cercata, il 5 viene cercata, il 6 viene fatta la denuncia di scomparsa, dal 6 al 12 c'è una denuncia di scomparsa che non si sa se è stata inviata o meno all'Interpol, ma a questo punto probabilmente no, e i dati non si incrociano. Abbiamo una giovane ragazza che si ritrova deceduta in modo completamente anomalo, la sorella Cristina parla con il medico legale, il medico legale implora il perdono della sorella, implora il perdono della famiglia per non aver fatto lo sforzo di andare a Port Bù. Il medico legale implorerà il perdono per non aver decretato un omicidio perché secondo lui di quello si è trattato, non si è trattato assolutamente di suicidio. Lui ha decretato il suicidio perché gli era stato spiegato in un altro modo. Quando ha visto poi le foto e le ha viste grazie al programma CRIMS, al programma spagnolo CRIMS, ha decretato immediatamente che questo non poteva assolutamente essere un suicidio. D'altro canto abbiamo le informative che vengono finalmente inviate all'Italia, la Guardia Civile Nazionale continua ad essere convinta che si tratti di un suicidio, nonostante non ci sia assolutamente di nulla che possa tornare in questo racconto, in questa storia. Abbiamo sei persone giovani, cinque ragazzi e una ragazza molto strani che si ritrovavano esattamente lì sulla scena praticamente del tragico decesso. Abbiamo troppi fattori strani. Grazie però al programma spagnolo si viene a sapere anche un'altra cosa. Di fianco all'altezza circa di quello che era il Pino c'è un palazzo, c'è una palazzina, al primo piano di quella palazzina dove c'è anche il primo balcone che si intravede c'è una signora che oggi ha 92 anni. Questa signora conferma, sottoscrive, dichiara che lei quel giorno si è accorta della ragazza e si è ricordata che lei nella notte ha sentito litigare, qualcuno litigare, è una giovane ragazza a urlare, ma lei non è mai stata interrogata perché? Perché la Guardia Nazionale Civile è andata a cercare nei campeggi, è andata a cercare nell'accampamento dei sei giovani, è andata a cercare nel porto, è andata a cercare nella stazione, ma nessuno ha chiesto ai vicini, a chi abitava in quella palazzina. Questa signora che oggi ha 92 anni, all'epoca ha abitato in quel appartamento, abita ancora in quell'appartamento e lei ha sempre sostenuto di aver sentito qualcuno litigare e soprattutto di aver sentito una giovane ragazza urlare. L'altra cosa no, ma lei che sia il medico legale del programma austriaco, sia il medico legale del programma spagnolo, entrambi dichiarano che questo non può essere assolutamente un suicidio, ovviamente il medico spagnolo dopo aver visto le foto solo recentemente, entrambi dichiarano che non può essersi assolutamente trattato di un suicidio, entrambi dichiarano che si è trattato di un omicidio, entrambi dichiarano che si è trattato di un omicidio per mano di almeno due persone, perché per riuscire a tirare su una ragazza in quello stato ci devono essere presenti almeno due persone, soprattutto entrambi dichiarano che la ragazza probabilmente o era stata drogata o tutto è successo mentre lei dormiva e poi è stato inscenato tutto quanto in seguito, perché non ha assolutamente alcun tipo di lesione, di manipolazione, assolutamente nulla di nulla. Quindi abbiamo una giovane che viene trovata lì con questi sei ragazzi accampati a poca distanza, che erano arrivati lì con un van della Volkswagen, che non si sa dove fossero nei giorni precedenti, non si sa dove fossero diretti, non si sa perché fossero lì, erano accampati lì, erano arrivati alle tre del mattino in un orario più o meno corrispondente con quello per cui poco dopo è successo quello che è successo. Voi penserete una tragica coincidenza? La cosa anomala è che uno dei sei di cui vi parlavo, perché abbiamo i sei ragazzi giovani che sono Mattia, Mattias, Mattias, Peter, Michael, Stefan, Manfred e Barbara, di questi sei, Peter in particolar modo, che all'epoca aveva 20 anni, viene contattato dalla tv austriaca per cercare di avere qualche informazione, di rilasciare un'intervista, di dire qualcosa. Lui risponde molto scocciato, è molto scocciato da quelle domande, è molto scocciato dalla pressione che riceve da questi giornalisti, è molto scocciato dall'attenzione che riceve, perché non si aspettava che venisse rintracciato da parte dei giornalisti, ovviamente. Quello che a quanto pare sembra abbastanza strano è che lui non vuole riferire né oggi, quindi 2022, né all'epoca ha voluto riferire da dove venivano, perché erano lì e dove sarebbero poi andati. Non si sa assolutamente nulla di nulla. Quello che sappiamo per certo è che in quella zona, a quanto pare, nel programma austriaco si farà riferimento in un breve passaggio molto breve, si farà riferimento al fatto che quello era il posto preferito di passaggio per il traffico, per alcuni tipi di traffico, sia di stupefacenti, sia di altri prodotti di contrabbando, ma soprattutto che era una zona preferita di passaggio per il traffico di esseri umani. A questo punto si ipotizza anche che magari in realtà lei non sia arrivata con questi giovani, che sia semplicemente una mera coincidenza. E pensano, può essere arrivata in qualche altro modo compatibile con quello che è successo? Evie Router, viene identificata così la giovane grazie alle impronte digitali presenti su alcuni oggetti portati dalla sorella, Evie Router era scomparsa il 3 di settembre, tra le ore 9 e le ore 13. Non è stata vista la fermata, non è stata vista in stazione a Firenze Santa Maria Novella, non è stata vista in stazione Siena. L'unica possibilità è che possa aver preso da Firenze Santa Maria Novella un treno espresso che partiva da Roma con direzione anche Port Bù. A Port Bù sarebbe dovuto arrivare all'incirca alle 5.45. Ovviamente questo orario potrebbe essere compatibile, ma è altamente difficile che possa essere questo, senza considerare che Evie Router era partita da casa con il libretto verde delle ferrovie, con la carta d'identità, non con un passaporto, era partita con 60.000 lire in tasca, era partita con gli occhiali da sole e non con gli occhiali da vista. Evie Router portava gli occhiali da vista, quindi era un viaggio che non sarebbe durato tanto, non sarebbe dovuta essere una scappatella in Spagna, quindi bisogna chiedersi chi o cosa può averla portata, a cambiare idea, ad andare e finire a Port Bù in Spagna, se è arrivata effettivamente col treno, se è arrivata con la macchina. Ci tengo però a ricordarvi che le stazioni sono state battute anche dalla Guardia Nazionale Civile, anche lì a Port Bù la stazione è stata battuta perché è una stazione molto piccola, è una stazione di scambio merci, di scambio di vario genere, ma è una stazione molto piccola e nessuno ha visto questa particolare ragazza, ricordiamoci che era alta Evie Router, un metro e 74, con una chioma di capelli così, molto riconoscibile, era una ragazza molto riconoscibile, nessuno l'ha mai vista, né in stazione, né al porto, né in giro per la città, da nessuna parte, quindi a sto punto è lecito chiedersi perché Evie Router avrebbe dovuto sviluppare degli istinti suicidi nel giro di circa quattro ore, scomparire completamente così dalla faccia della terra, recarsi fino in Spagna e commettere il gesto estremo. Hermann Router, il padre di Evie Router, si dichiara assolutamente non concorde con l'ipotesi di un suicidio perché non ha notato assolutamente alcun tipo di tristezza, di preoccupazione, di depressione. Lo stesso vale per la sorella Cristina, in quei giorni passati, poco prima della scomparsa, insieme alla sorella, dichiara effettivamente che non ha visto alcun tipo di preoccupazione, alcun tipo di depressione, perché dice chi ha intenzione di fare il gesto estremo, qualche segnale lo lascia, un gesto troppo affettuoso, un messaggio, un biglietto, qualcosa lascia. Nel caso di Evie abbiamo semplicemente una ragazza di 19 anni in vacanza a Firenze della sorella maggiore che le scrive di voler fare un giro a Siena con solo gli occhiali da sole, 60.000 lire, documento di identità, la carta di identità e il libretto delle ferrovie. Abbiamo quindi una persona che viene inghiottita nel nulla, diventa una fantasma, diventa una persona invisibile alla faccia della terra che viene ritrovata dopo circa 20 ore dalla scomparsa, viene ritrovata deceduta, morta, appesa a 2,65 m d'altezza il ramo a cui è stata appesa e che la Guardia Nazionale Civile ha decretato come suicidio. A quanto pare i carabinieri in Italia hanno deciso di riaprire il caso, riaprire le indagini, la magistratura ha deciso quindi di riaprire le indagini, scusate. Si pensa ovviamente che non possa essersi trattato di un suicidio, per il momento non è dato sapere nulla, ma siccome in Italia le informazioni sulle scoperte, siccome si è arrivati all'identificazione di questa povera donna non sono state diffuse, avevo piacere di raccontarvi questa storia che mi ha colpita, che mi ha fatta anche piangere dal nervoso, dalla rabbia, dalla tristezza per 32 anni di mistero che poteva essere risolto nel giro di circa una settimana con un semplice contatto dell'Interpol, perché ci sarebbe, sarebbe bastato in realtà solo quello, sarebbe bastato mettere in collegamento una denuncia di scomparsa e un fascicolo inviato all'Interpol. Sono molto arrabbiata, molto delusa, io spero che la famiglia possa riuscire a trovare giustizia, a trovare delle risposte. Sinceramente non sono convinta che si sia trattato di un gesto estremo, perché se cammini sui cactus, se cammini nei cactus, qualcosa sui piedi devi avere come traccia. Non sono convinta assolutamente che lei si sia arrampicata fino ad arrivare lì e che poi fluttuando in aria abbia deciso di farsi quel particolare nodo girato a rovescio, come spiegano entrambi i medici legali in questi documentari, sia in quello austriaco sia in quello spagnolo. Spero di non aver urtato la vostra sensibilità, spero di non aver urtato la sensibilità della sorella, del padre Herman. Spero di riuscire a farvi comprendere come possa essere facile sottovalutare, tralasciare particolari importanti, come possa essere facile arrivare a concludere un caso in questo modo, magari per evitare di perdere tempo, di arrivare per non avere troppe fatiche, troppe cose a cui pensare in una zona come può essere quella di Figueres. Sinceramente mi auguro che un giorno si possa fare giustizia, mando un forte abbraccio alla famiglia e vi auguro una buona giornata e spero ovviamente, mi auguro che si diffondano sempre di più le informazioni su questo caso, anche in Italia, che se ne parli più spesso, perché bisogna parlarne più spesso di questi casi, di quanto possa essere facile riuscire a scomparire nel nulla, scomparire completamente nel nulla ed essere ritrovati a distanza di 20 ore, ma identificati dopo 32 anni e identificati solo grazie alla tenacia di 5 giornalisti che si sono impegnati su questo caso. Ciao e buona giornata! Grazie a tutti! Grazie a tutti!